Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi il nuovo video acquisti manga del mese di marzo 2023 Prima di iniziare però come sempre invito ad iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram e attivare la campanellina Importantissimo il seguirmi su Instagram perché se volete beccarmi al Comic Con di Napoli Vedere dove sarò come eventi, semplicemente cazzeggiare insieme a me L'unico modo è quello perché credo che da qua a fine aprile non caricherò più video qua sul canale Quindi insomma, se volete capire dove vivo, cosa faccio, seguitemi su Instagram fondamentale Altra cosa importantissima, utilizzate il codice otaku su starshop.it per avere la spedizione gratuita Raga, lo sapete, mi supportate in questo modo quindi se vi va utilizzatelo Ultima cosa, poi passiamo al video, tutte le uscite di fine marzo le vedrete nel video di aprile Perché non ho avuto il tempo né di ordinarle né di leggerle, quindi tutte quelle lì a fine aprile, ok? Detto questo, passiamo agli acquisti Questo mese voglio partire da Planet Manga per il semplice motivo che le sue letture mi hanno regalato più emozioni Partiamo dalla prima e sto parlando di tracce di sangue, prezzo di 7€ col numero 13 Ragazzi, che volume pazzesco, credo che a mani bassi sia uno dei migliori volumi di tutta la serie Bellissimo, ripeto, non posso e non voglio entrare nei dettagli Vi basta vedere questo sguardo, cioè le prime pagine sono da brivido Un senso di riesolazione, cioè veramente magnifico Oshimi qua ha fatto un lavoro pazzesco Ah, tra l'altro ragazzi, se invece siete persi il mio ultimo video in cui vi mostro anche uno sketch originale di Oshimi Vi lascio qua sotto in descrizione Il secondo recupero di Planet Manga non è una novità ma è un recupero E sto parlando dei 4 volumi, quindi serie completa della professoressa Mente Ragazzi, questo è uscito a dicembre Sono stato un pirla totale a rimandarlo acquisto Andiamo con ordine Il prezzo di ogni volume è di 12 euro, però è un'edizione 2 in 1, quindi prezzo giustissimo Seconda cosa, lei è l'ex moglie del maestro Inyo Asano, l'autrice Ragazzi, io lo amo Lo so che, insomma, sono due cose che cozzano perché voglio dire cosa c'entra Asano con le cose scritte dalla ex moglie Però, insomma, mi attirava questa cosa qua Non so perché, insomma, ero gasato anche solo per questo fatto Terza e ultima cosa, ragazzi, la trama è una bomba Ovviamente l'ho già letto, è a mani basse, secondo me, una delle migliori opere uscite nel 2022 È veramente qualcosa di pazzesco Vi dico già che non è un manga per tutti perché tratta temi molto molto sensibili Come stupro, misoginia e violenza di genere Quindi, ragazzi, non è uno di quei manga da dire Boh, me lo leggo quando sono stanche e voglio svagarmi No Però, tutti questi temi qua sono trattati con una eleganza e classe unica Mai volgare, ma assolutamente di impatto e riflessiva Vi dico sinceramente che a tratti avevo veramente la pelle d'oca durante la lettura di quest'opera Quindi la trama di quest'opera narra le vicende di questa insegnante, di questa professoressa Che qualche anno prima ha subito uno stupro Quindi vedremo quello che gli è successo, quindi quello che ha dovuto subire Quello che subisce ogni giorno a causa di questo enorme trauma Attenzione, però, non è un manga solamente triste, no? Di cose bruttissime Ma ci sono a tratti, poi soprattutto nel finale, questo lo posso dire Anche cose belle, quindi capisco che all'inizio possa essere molto molto forte Però poi, piano piano, la cosa si va sempre Comunque a bastonare, diciamo così Con alcuni termini, movenze Cose che accadono all'autrice Però poi un pochettino si ammorbidisce sul finale Che, devo essere sincero, mi è piaciuto molto Insomma, l'ha chiusa bene questa storia In conclusione, la professoressa mente non è un manga per tutti Per i temi che tratta Se avete voglia di leggere un qualcosa di più profondo Raga, prendetelo subito Perché veramente è una bomba Complimentissimi all'autrice Immagino l'autrice su YouTube a cercare acquisti manga a mese di Vede sto sfigato con la metà di Harry Potter Ah, guarda, la seconda ha fatto i complimenti, che bello Andiamo avanti con due opere uscite insieme Visto che ho comprato il bundle Dal prezzo di 15€, ovvero le due nuove opere del maestro Takashi Tra l'altro in questo bundle c'era anche una cartolina Che noi bravi Reselle ne abbiamo presa Dov'è la cartolina? Eccola quella Che in futuro prenderà valore Questa qua insomma la davano solamente dentro al bundle Che praticamente raffigura il negozio dell'opera citata in Guitar Shop Rosie Partiamo dall'opera che mi ispirava maggiormente delle due Forse l'avete già capito Ovvero Jumbo Max Dal prezzo di 7,50€ Serie attualmente ancora in corso in Giappone Composta da 7 volumi Vado a memoria Ma che secondo buon Michele Mari Che veramente conosce così Takashi vanno fuori a mangiare in due per due Mi ha detto che dovrebbe concludersi a Se non breve comunque non dovrebbe andare troppo per le lunghe Passiamo alla trama Il motivo per cui mi ispirava tantissimo Questo manga Il nostro protagonista ha 50 anni Circa 51 adesso non ricordo Ed è un farmacista Ricordatevi questo dettaglio Il suo problema che è una disfunzione erettile dalla nascita Quindi il suo qua sotto non lavora Caput Morto Ma per una serie di circostanze prova questa pastiglia miracolosa Che gli farà funzionare Il Pipo Si può dire? Si può dire Quindi lui cercherà poi di andare a replicare questa pastiglia Che non è che vendono È stata commercializzata No È una cosa particolare che adesso non entriamo nei dettagli Lui insomma dovrà cercare di replicarla E qui entrano in gioco le sue doti da farmacista Quindi ragazzi Il primo volume mi è piaciuto un sacco Però mette molto bene Tra l'altro anche il tratto Il disegno l'ho trovato molto più pulito rispetto a Noin Quindi l'ho apprezzato maggiormente Quindi Jumbo Max promosso a pieni voti Così Mighele è felice Non mi chaga Il secondo volume come ho già fatto vedere prima È Guitar Shop Rosie Prezzo di 7,50 euro È il volume 1 per una serie attualmente in corso Anche questa in Giappone Composta per ora da due volumi Va molto a rilento Quindi Se me è il Takashi Poi secondo me Secondo Mighele Non dovrebbe portarla troppo avanti Quest'opera mi ispirava molto meno Perché inutile girarci intorno Tratta di un negozio di chitarre Di riparazione di chitarre E quindi a me Non interessandomi della musica Fino a certo punto Insomma Non è che non l'ascolto Però non ci faccio troppo caso Ecco E non interessandomi assolutamente niente Di chitarre Capite anche voi che Ho detto Madonna Mi renderanno due palle a leggerlo E così non è stato Perché sono tutte storie brevi Ovviamente i protagonisti Sono sempre gli stessi Quindi la trama prosegue Però ogni volta Entra un nuovo cliente Per far riparare la sua chitarra E ogni volta Diciamo Scopriremo quello che c'è dietro A questa chitarra Scusate la ripetizione E vi assicuro Che soprattutto La prima storia Mi ha lasciata bocca aperta Mi ha quasi fatto commuovere E non sono un tipo Che piange ogni due per due Ecco Sono veramente Un cuore di ghiaccio Diciamo così Tranne su Maria Academia Lì si piange sempre Però vabbè Quindi vi dirò Se non vi interessa troppo la musica Come nel mio caso Né tantomeno delle chitarre Non dovete farvi trarvi l'inganno Poi sì c'è la spiegazione della chitarra Ma nel caso ve la saltate Se non vi interessa Ma come storia Come storia all'interno L'ho apprezzata molto Cioè mi ha stupito Bello Quindi poi certo Se amate la musica Se amate le chitarre È il manga fatto apposta per voi Ci spostiamo a Star Comics Con un'uscita pazzesca Ovvero Vigilante numero 15 Prezzo di 5,20 Serie finalmente conclusa Uno spin off che Come dico da sempre Non è stato fatto solamente Per fare dei soldi Perché la storia è fatta bene Merita Il finale mi è piaciuto Sì mi è piaciuto Mi aspettavo un collegamento Enorme nella mia testa Con la storia principale Che purtroppo non c'è stata Però ragazzi Non potevo pretendere una cosa del genere Era proprio una fantasia Mi aspetto però Se devo essere sincero Fra un paio d'anni Un anime Perché se non è l'anime Di questa opera qua Ci potrebbe stare molto bene Perché la storia è bella Quindi nel complesso Vigilante Ottimo Ottimo spin off Non solo fatto per i soldi Ma anche per un contenuto Quindi consigliatissimo Ritorna sempre in casa Star Comics A record of Ragnarok Con numero 14 Prezzo di 6,50 euro È tanto Ragazzi Inutile girarci intorno Però è una serie Che mi sta piacendo molto I combattimenti Li adoro È una tamarrata totale E quando uno è stanco alla sera È veramente il suo fio È perfetto È perfetto per svagarsi Quindi So che costicchia Insomma Però lo continuo Assolutamente Cambiamo editore E passiamo a Giundo Vi ricordate di questo editore? Ve ne ho parlato Nel video acquisti Del Comic Con 2022 Per chi non si ricordasse O chi non lo conoscesse Eccetera È un autore E un autore Buonanotte È un editore Che si occupa Unicamente di pubblicazioni Di webtoon Cosa sono i webtoon? Sono dei fumetti Unicamente in digitale Quindi si fruiscono Tramite telefono Tablet PC Hanno un sito Con delle promozioni Fantastiche Perché con tipo Adesso vado a memoria 2-3 euro Vi fate l'abbonamento Mensile E vi leggete un catalogo Immenso Quindi raga È una bomba Ho letto diverse loro opere E devo dire che sono Molto molto meritevoli Cosa stanno facendo però Da diversi mesi Questa parte Visto che sanno che il lettore italico È un lettore che gode Ad avere il formato cartaceo Anche se costa di più Le opere di maggior successo Le portano in formato fisico E qua ragazzi Ce ne ho due Due novità Di questa ragazzi Non me ne posso ancora Troppo parlare Vi posso mostrare Il volume Il prezzo Che è di 9,99 euro E fra è caro Attenzione però ragazzi Vi faccio vedere La grandezza del volume In confronto a un A un traccio di sangue Ma soprattutto ragazzi Sono tutti quanti A colori E sono stampati Ve lo assicuro In modo divino Mi dite Eh fra ma te l'ho Mandato gratis No ragazzi Lo sapete Quando c'è qualcosa Che se me lo trovo Un pochettino troppo costoso Lo dico Vedete Correggio Of Ragnarok Ma in questo caso Il prezzo secondo me È super giusto Veramente Meno di così Sarebbe veramente difficile Secondo me Pubblicizzarlo E guadagnarci anche qualcosa Perché non sono Editori che Campano d'aria Il secondo volume Anche in questo caso Dal prezzo di Cioè secondo volume Inteso l'altra opera Ecco Al prezzo di 9 euro E 99 Questa ragazzi Non la conosco Se questa qua La conosco E la genetta Ma non posso ancora Dirvi niente Questa ragazzi Non la conosco ancora Cioè non ho ancora Letto niente Neanche in digitale Quindi mi posso Unicamente riportare La trama Che è riportata Qua dietro La trama è comunque Molto molto interessante E potrebbe tranquillamente Succedere anche a me Quando un hardcore gamer Muore Non va in paradiso Ecco Cioè prende questo qua È un nerdone Che mentre sta Quando è finito di giocare Il piglia l'infarto E crepa Detta così ecco E poi però Non è che va in paradiso Ma va in un'altra terra Molto interessante Ripeto potrebbe succedere Speriamo proprio di no Però insomma Se deve capitare Speriamo di andare Una terra promessa Il Giappone magari Ci spostiamo ad un editore Che è appena entrato Nell'editoria dei manga Un editore già comunque Conosciutissimo Stiamo parlando Dell'Ippocampo Edizioni Porta delle opere Magnifiche Ed edizioni bellissime A riguardo al Giappone Guide Per esempio c'è quello Dei Ryokan Che è bellissimo Insomma Tante tante pubblicazioni Che se vogliono gentilmente Mandarmeli Io sono assolutamente Le aspetto a braccia Non aperte Di più Quindi sono entrati Nel mercato manga E mi hanno gentilmente Omaggiato Dell'imperatore del Giappone Numero 1 E numero 2 Il prezzo è di 8 euro A volume Magari I due volumi 8 euro Sarebbe veramente Una cosa bellissima È una serie Attualmente in corso In Giappone Composta da 9 volumi Serie in corso E in Italia Ne sono usciti per ora 4 Come si può benissimo Capire dal titolo Narra le vicende Di Hirohito È un prete storico Imperatore del Giappone Quello che c'è stato Durante la seconda guerra mondiale Gli anni prima Andato su Andato in carica Diciamo così Molto giovane Insomma ne ha passate Di cotte e di crude Sono vicende reali Quindi non c'è niente Di fantascienza Non immaginatevi Che arrivano gli alieni Mi mangiano l'imperatore Poi arrivano E combattono C'è Goku No è una cosa Ovviamente reale A livello storico Un po' come Showa Diciamo così Ora io non li ho ancora letti Quindi non vi posso dare Un feedback Il tratto Il disegno Lo trovo veramente bello Adesso vi trovo una tavola Magari senza troppi spoiler Vi faccio vedere A parte che bello Il tratto lo trovo fatto Veramente molto bene Quindi già da questo È molto godibile Poi ragazzi No te girarci intorno Lo sapete Io sono un cacciarone Guardate le tavole Cosa notate? Poche scritte E questo ragazzi Può aiutare Perché un manga storico Insomma non vorrei Che risultasse troppo Noioso Tra virgolette Ma c'è qua ragazzi Poche tavole Bei disegni Quindi insomma Sono molto curioso Ne parleremo poi Più avanti Qua sul canale Visto che ho Insomma se mi piace Ho intenzione Di recuperarmi mano a mano Tutta la serie Ditemi anche voi Qua sotto nei commenti Se l'avete magari già letto O dovete Eravate incerti Lo conoscevate Non lo so Insomma fatemelo sapere E con questo Le novità sono finite Come vi ho già detto Tutte le uscite di fine marzo Le vedrete nei video acquisti Di fine aprile Io vi ringrazio tantissimo Per l'attenzione Spero che il video Si è stato di vostro gradimento E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti